La mia prima esperienza ispettiva dopo un addestramento di sei mesi, un bel giorno, una mattina mi dicono, era Genova, mi dicono vai ad ispezionare il bar di sotto, il bar di sotto ovviamente era un bar che mi aveva visto giorni prima prendere il caffè eccetera, evidentemente era proprio un buttare all'ispettore fra i leoni perché questo bar era vittima sempre di queste ispezioni quando arrivavano nuovi ispettori, io entro in questo bar e dovevo ovviamente intervistare i lavoratori, sentire i lavoratori e chiedere al datore di lavoro che era nel bar, i documenti assicurativi, potete immaginare fra i clienti forse è qualcosa che è difficile fare, avvicinarsi, dire sotto voce che sei un ispettore e chiedere i documenti o intervistare un lavoratore sull'orario che fa, sulla retribuzione che prende, via di seguito, cose allucinanti con un tremore della prima ispezione. Mi ricordo le prime grosse esperienze erano gli anni, si parlava degli anni 70, quindi grosso sviluppo nelle costruzioni, nelle autostrade eccetera, cominciarono a avere esperienze a caccia di quelle evasioni notevolissime, contributive, allora si parlava di centinaia di milioni ogni ispezione di recupero e per arrivare a cercare di non solo di fare entrare soldi nelle casse degli istituti assicuratori, quanto invece proprio il fatto di dover cercare di stroncare per esempio i famosi appalti, appalti con lavoro nero e conseguente, perché? Perché gli appalti purtroppo spesso, tuttora, celano forme di sfruttamento pesantissime dei lavoratori che vanno dall'orario di lavoro a retribuzioni in nero, a ritmi di sostituzione dei lavoratori in caso di malattia, quindi dove invece ci sarebbe una tutela del lavoratore e via di seguito. Ricordo in particolare un episodio che di per sé stesso è sintomatico perché essendo venuto sotto la nostra osservazione ci ha posto il problema che poteva verificarsi anche in modo piuttosto diffuso, era il caso per esempio della fine di una commessa, quindi quando le aziende si trovavano un po' con la corda stretta per fare delle consegne, ebbene in un'azienda, anche questa metalmeccanica, metalmeccanica pesante, romana, sempre su suggerimento sindacale ci facevano notare che c'erano dei ritmi di lavoro incredibili, andiamo di sorpresa in azienda, interroghiamo i lavoratori e scopriamo che un gruppo di lavoratori stava lavorando per una commessa da 48 ore senza nessuna interruzione, era un caso unico, la commessa doveva andare in scadenza, doveva essere consegnata e quindi questi lavoratori stressati da 48 ore, 48 ore significa praticamente 4 giornate lavorative che questi avevano fatto in continuazione, ebbene l'interrogatorio di questi lavoratori che una volta finalmente interrogati vedevano finire questo stress lavorativo tremendo, che cosa ci fanno notare? Ci fanno notare che senza nessuna interruzione con grandi rischi in che cosa? Pensate proprio in quello che è il rischio lavorativo peggiore, il rischio di infortunio, è logico che è evidente che il rischio di infortunio aumenta con l'aumentare dello stress, quindi dell'attività lavorativa, figuratevi alla 48esima ora senza riposo, il rischio infortunistico come si era alzato? Uno degli aspetti negativi di questa vita movimentata, ispettiva in giro per l'Italia è il fatto di essere assente da casa, essere spesso assente da casa e quindi anche un po' degli affetti, che nello stesso tempo è un fatto anche che ha un po' dei risvolti positivi, cioè rivedere una persona dove sei stato assente per un mese, per sei mesi o per qualche giorno, c'è quell'interesse particolare del sorriso che ti attende, quindi quell'affetto che riscatta alla vista della persona, eccetera, quindi sono cose che hanno degli aspetti e positivi e negativi. Da ragazzo avevo assistito a uno sfruttamento notevole dei lavoratori, anche di mio padre, mi ricordo orari di lavoro pazzeschi di mio padre che arrivavano e superavano le 12-13 ore al giorno, quindi sentivo un po' questa esigenza di giustizia nell'ambito dei lavoratori e allora feci un concorso per arrivare ad essere rispettore del lavoro, ero proprio ragazzo, avevo 23-24 anni e vinsi questo concorso finalizzato anche al fatto di una certa libertà di movimento, gli ispettori proprio in quanto tali avevano una libertà di lavoro giornaliero, quindi mi affascinava il fatto che si potesse andare a ispezionare di notte le aziende, i luoghi di lavoro più strani, eccetera, e quindi da ragazzo ero anche coinvolto per esempio ad ispezionare anche i nightclub, mi interessava questa cosa, cosa che facevo con molto piacere. E' stata un po' una motivazione anche, voglio dire, molto sciocca, che mi ha portato proprio a una vita lavorativa piuttosto libera a tutela soprattutto dei lavoratori. La mobilità lavorativa è stata molto interessante perché il fatto di potersi dedicare alle ispezioni in qualsiasi ora del giorno e della notte comportava anche per chi ama la vita movimentata doversi arrangiare, scovare la trattoria che ti faceva la cena alla sera alle 10, alle 11, proprio che tu perdevi un'altra ora, due ore per poi iniziare all'ispezione e via di seguito. Ebbene questa scoperta, come anche un po' fosse la dedizione personale a saper mangiare, all'amare il mangiare, mi ha portato a scoprire luoghi di alimentazione particolari. Oggi arriva un amico australiano che si occupa di italiani in Australia e questo amico australiano ovviamente è di origine italiana, è un italo australiano e gli farò assaggiare delle cose caratteristiche nazionali, farò un antipasto di pesce spada affumicato, quindi caratteristico della Sicilia, poi farò un brodo con i famosi tortellini emiliani, altro caratteristico pasto italiano e poi sono riuscito ad avere un pollo ruspante, oggi non si trovano più i pollo ruspante con cui abbiamo fatto questo brodo, quindi faremo anche una lavorazione tipo insalata di pollo di questo pollo ruspante, per accompagnarlo poi con le primizie di questa zona, di questo periodo che sono le fragole e altre cose di questo tipo. Grazie a tutti! Grazie a tutti!